Ho fondato il Cineteatro nel 2005-2006 insieme a un gruppo di artisti, compagni e amici che stimo tantissimo. Il nostro obiettivo era quello di creare un centro di formazione, produzione e ricerca in campo artistico e teatrale. Il risultato della volontà formativa è l'Accademia Internazionale del Cineteatro, un'accademia che ha una storia giovane ma che già sta producendo i suoi risultati, alcuni suoi allievi stanno già lavorando con successo nel mondo del cinema, nel mondo del teatro e si basa su una pedagogia che ho creato io, una pedagogia che ho creato sulla base delle mie esperienze, potete andare a vedervi il mio curriculum, sono ormai abbastanza vaste e di antica data e hanno i loro pilastri su le capacità che io ho studiato su una serie di tecniche, su come rianimare la parola scritta, sia che sia una sceneggiatura che sia un copione, come riportarla alla vita reale. Questo in una relazione, altro pilastro, fondamentale basata sull'ascolto, quindi l'artista deve essere perennemente in ascolto. Una cosa importante è che il Cineteatro si basa su una formazione d'elite. Pochissimi allievi sono presi ogni anno, dai 5 ai 6 ai 7 ai 3 allievi, dipende dalle selezioni e da come vanno appunto i provini. Questo perché noi crediamo che la formazione accademica debba essere appunto d'elite. Poche persone ma formate al meglio, non potremmo dare la nostra attenzione, la nostra profondità a un numero esagerato di persone. Ogni anno quindi comporta un numero più o meno di 5 allievi, per un totale dentro l'accademia di non più di 15, 15, 16, 17 allievi. Questa pedagogia ha anche delle caratteristiche che col tempo si sono aggiornate, per cui noi siamo sempre con gli occhi aperti su quello che sta succedendo sul mondo artistico. Ed è importante capire che adesso è il tempo in cui sta emergendo sempre più vasta e anche a livello commerciale interessante la performance. Per cui all'insegnamento del teatro e del cinema uniamo l'insegnamento sulla performance, che ha delle specifiche particolari. anche da un punto di vista tecnologico. In particolare voglio segnalare come dall'anno scorso, guidati dallo stato di necessità, abbiamo implementato un'altra materia, diciamo, comunque un campo di insegnamento, che è quello dell'attore virtuale, l'attore da webcam, l'attore che ha il suo vlog, l'attore su YouTube. Ci sono delle tecniche importanti da sapere, se uno vuole produrre propri contenuti e portarli al meglio alle persone che ascoltano. Quindi questo significa che noi, nell'eventualità di un qualsiasi altro lockdown, non ci fermeremo, perché la nostra materia appunto di attore virtuale ci permette anche di insegnare a distanza attraverso le webcam. Parole importanti vanno spese rispetto al nostro gruppo di docenti. Sono tutti docenti che sono artisti attivi, non sono semplicemente teorici, né persone che hanno fatto pochi anni e poi hanno iniziato a insegnare, né persone che si sono ritirate dal fare gli artisti. Sono artisti che fanno e in virtù di questo poi insegnano. Li potete trovare tutti elencati sul nostro sito e potete cercare sul web la grande quantità di opere che continuano a produrre e che produrranno in seguito. Come dicevo, il cineteatro è un centro di ricerca, formazione e produzione cinematografica teatrale, che vuol dire che questo è un grande valore aggiunto. In collaborazione con la nostra filmmaking school, noi lavoriamo con i nostri allievi alla produzione di arte, cioè film, cinema, serie web, festival di performance, spettacoli teatrali. Tutti includono sempre la collaborazione dei nostri allievi, che vengono quindi messi dentro un circuito virtuoso che gli permette di sperimentare nel pratico quello che poi hanno capito anche facendo la scuola e l'accademia. Non ultimo, l'accademia è internazionale, che vuol dire che noi abbiamo appuntamenti tutti gli anni con dei maestri della scena internazionale. Posso citare Eva Benesch, diretta collaboratrice di Yeji Grotoski, maestro del teatro internazionale, che viene ogni anno da noi. Ange Ipin, un'altra artista che è venuta da noi, e potrei citarvene altri, li trovate tutti nominati sul sito web, e questo dà un respiro ai nostri allievi di quello che sta succedendo nel mondo. A questo punto vi devo invitare, vi devo invitare all'Open Day del 18 settembre. L'Open Day è l'occasione con cui voi, venendo concretamente in carne e ossa nel nostro sito, a Via Valsolda 177, la nostra bella struttura, potrete toccare con mano quello che vi sto dicendo. E sperimentare e anche assaggiare piccole pillole di questa pedagogia di cui sto parlando e di tutte le materie di tutti gli insegnanti. L'Open Day è un'occasione unica per entrare in contatto con il nostro modo di passare questo livello qualitativo. Tutto quello che ci riguarda lo potete trovare sulle nostre pagine di riferimento a livello internet. La pagina di Facebook Cineteatro Roma e il nostro sito www.cineteatro.it Qualsiasi informazione la potete anche richiedere via mail o attraverso i telefoni che sono citati su questi luoghi virtuali. Vi aspetto all'Open Day.